Io faccio un intervento molto rapido anche perché non vorrei entrare proprio nel merito di questi processi visto che sono uno in corso, come sapete quella della ThyssenKrupp è nella fase dibattimentale, quindi nella fase in cui davanti alla Corte di Assise si sta cercando di ripercorrere tutte le indagini e si sta formando la prova davanti a questi giudici che sono sicuramente a conoscenza della vicenda umana che ha investito queste sette famiglie, ma che non conoscono tecnicamente ancora gli elementi che hanno portato a questo rinvio a giudizio per omicidio di tipo doloso. È il primo caso in Italia, portato avanti dal dottor Guariniello e dal suo staff, in cui si è arrivata a un'imputazione per morti sul lavoro di questo genere. Perché è particolarmente importante? Perché l'omicidio doloso prevede che sia approvata la volontarietà della condotta spesa dal datore di lavoro. Il che significa che gli imprenditori e soprattutto i vertici più alti di questa impresa si sono rappresentati e hanno voluto le morte di questi lavoratori. Questo sarà il compito del pubblico ministero provare questa condotta e questa volontarietà della condotta e sarà compito di noi parti civili costituite di aiutare il pubblico ministero nel dimostrare questo che è il fulcro di questo procedimento. Come lo dimostreremo? Lo dimostreremo attraverso i nostri consulenti tecnici che hanno effettuato un sopralluogo e stanno valutando qual era la reale situazione di quell'azienda. La gravità del comportamento e quindi la gravità da cui è derivata questa imputazione è legata al fatto che sicuramente la ThyssenKrupp aveva deciso di spostare le linee di produzione in un'altra sede e quindi aveva lasciato una situazione in balia di nessuno in cui si è verificato poi questo incidente che ha visto queste sette vittime. Questa è la cosa importante da sottolineare. Con l'omicidio volontario, con l'omicidio doloso, si è potuto andare a rinviare a giudizio i vertici che normalmente sono fuori dalle vicende che vedono coinvolti i lavoratori. Perché? Perché si tende sempre ad andare ad incriminare i soggetti che sono più vicini al lavoratore, quindi i rappresentanti degli alti vertici che però si trovano nello stabilimento. Invece con l'omicidio doloso c'è questa possibilità di andare a prendere chi è proprio in cima alla scala sociale che c'è all'interno di un'impresa. Io non vorrei soffermarmi oltre su questo procedimento perché molte volte i difensori di questi imputati hanno cercato in qualche modo di far spostare il procedimento altrove perché questo è uno dei grandi problemi legati al fatto che la Corte sarebbe un po' strumentalizzata dalla presenza dei familiari delle vittime che sono stati anche per un certo periodo allontanati dall'aula. Per ovviare alcuni inconvenienti la Corte rammenta sempre di mantenere il buon ordine all'interno e all'esterno dell'aula proprio per evitare che questo procedimento particolarmente importante che si tiene qui a Turino non venga spostato altrove. Medicina democratica che io rappresento è stata ammessa nonostante tutte le contestazioni che hanno cercato di tenerla fuori sia nella fase dell'udienza preliminare sia poi nella fase dibattimentale con delle eccezioni che sono assolutamente state dimostrate destituite da ogni fondamento. Mi auguro che Medicina democratica venga ammessa nell'altro procedimento che sto seguendo sempre qui a Turino che è quello nei confronti della Eternit. anche questo è un procedimento particolarmente rindondante perché è il primo in Italia per un numero così ampio di persone che sono decedute e anche in questo caso siamo però in una fase anteriore, non siamo in un dibattimento siamo in una fase prima dove il giudice dovrà valutare se la richiesta di rinvio a giudizio formulata anche in questo caso dal dottor Guarignello è effettivamente fondata e quindi ci sia la possibilità di aprire quello che sarà poi il vero e proprio procedimento. Siamo in una fase ancora ibrida nel senso che le parti civili stanno man mano presentando la loro richiesta per la Costituzione nel procedimento e da parte delle difensori degli imputati stanno facendo, stanno formulando tutte le varie eccezioni. In questo caso dico io mi auguro che la parte civile Medicina democratica che io assisto venga ammessa perché purtroppo anche in questo caso il tentativo è di allontanare il più possibile le associazioni che cercano di dare voce ai lavoratori e voce alle vittime allontanandolo anche pretestuosamente con delle eccezioni che anche in quel caso per noi risultano destituite di fondamento. Purtroppo la parola è lasciata al giudice e quindi dovremmo attendere questo verdetto che sarà ormai a breve. Nella causa contro l'Eternit è molto importante sottolineare che è la prima causa anche dove l'Inail si costituisce parte civile e richiede, se non vado errato, un risarcimento di quasi 7 milioni di euro o qualcosa del genere. A differenza del procedimento della Tissen Group dove l'Inail non si è costituita perché parti dei familiari sono stati risarciti. Anche questo è il motivo per cui i familiari delle vittime sicuramente vogliono giustizia e devono essere rappresentati da queste associazioni, dai sindacati e da quei pochi lavoratori perché una buona scrematura è stata effettuata nel procedimento Tissen Group proprio per arrivare a un verdetto. Anche perché, ripeto, se si arriva alla condanna è una condanna eclatante ed è la prima che dovrà essere la causa pilota che porterà dietro poi tutte le altre cause nelle varie procure d'Italia. Ci si aspetta che sicuramente le altre procure a loro volta si sforzino di fare delle imputazioni così gravi perché sono veramente molto gravi. In questa fase la Corte d'Assise, che sarà poi l'organo che dovrà pronunciarsi, non ha ancora dei consulenti che li spiegano da un punto di vista neutrale, ecco questa è la differenza, è tecnico la funzione della linea, qual era la reale situazione della linea. Per ora sono solo le parole dei consulenti del Pubblico Ministero e per quello che è noi possibile delle nostre parti civili contro le parole che sono spese direi anche abbastanza bene dai consulenti della difesa che sono sicuramente volti a far sì che l'imputazione di omicidio doloso venga derubricata in omicidio colposo, il che sarebbe veramente uno smacco perché significherebbe che sì, il datore di lavoro è stato negligente, ha messo in atto una condotta imprudente per imperizia e perché non ha rispettato le normative relative all'ambiente di lavoro, alla sicurezza in materia di lavoro e sicuramente viene condannato, ma non viene condannato in prima persona il vertice ma soltanto i sottoposti vengono condannati a una pena notevolmente inferiore, mentre non dimentichiamoci che l'omicidio doloso prevede l'ergastolo, tanto più che loro hanno scelto come formula per discutere questo procedimento di fare un rito ordinario, quindi non hanno sconti di pena se non per le attenuanti che gli consentano di limitare i danni di un'eventuale condanna. Grazie a tutti.